Assurda tragedia nel pomeriggio a San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, il carico di cemento di un tir si stacca dal rimorchio e travolge una pensionata in bicicletta, uccidendola sul colpo. Crollano mattoni dal palazzo, intervento dei vigili, chiusura temporanea per Calle del Cafetiera a Venezia, nota per essere un'area di affittanze turistiche. Veneto avanti sul fine vita, dopo Stefano Geller via libera la seconda procedura di suicidio medicalmente assistito per una 78enne malata oncologica, è solo il quarto caso in Italia, la donna io libera fino alla fine, orgogliosa di essere Veneta. Perde il controllo della moto e si schianta contro le colonne di un capitello a bordo strada, tragedia nel Veronese, muore Centauri di 22 anni. Maxi Blitz antidroga della Guardia di Finanza di Vicenza ad Arcugnano, fiamme gialli in alcune palazzine, 5 arrestati e 600 dosi sequestrate tra cocaina, eroina e crack. Milano Cortina 2026, sindacati contrari al villaggio olimpico previsto a fiamme, se si costruiscono e si smontano per fabbricati non lascerebbe nulla al territorio. Nel 1943, prigioniero in un campo di lavoro in Germania, il vicentino Domenico Silvestri iscrissa alla moglie Teresa, una missiva mai arrivata a destinazione. Ottant'anni dopo la cartolina è stata rintracciata e consegnata alla figlia Amarano Vicentino. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito dai titoli, con la tragedia che è dell'incredibile. È accaduta nel tardo pomeriggio di oggi a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Una donna in sella, la sua bicicletta è stata travolta da un carico di cemento caduto da un camion. C'è shock lì nella zona dove l'anziana abitava. Ci colleghiamo subito con Daniela Sizia insieme a Nicoletta Rizzetto per tutti gli aggiornamenti su questa tragedia. Buonasera, buonasera Francesca, buonasera anche ai telespettatori. Lo vedete, siamo proprio vicini alla camion dove, vedete là di fronte, dove è accaduta la tragedia. Il corpo è stato appena portato via, si tratta di una donna del 47 che abita davvero a pochi metri da qua. La signora era in bicicletta, stava percorrendo questa strada. Il camion invece veniva dal senso opposto, come potete vedere, e davanti c'era anche un'altra auto che guidava questo camion. Il signore della macchina è sceso e ha chiesto alla signora di fermarsi perché, come vedete, la curva è molto stretta. La signora forse non ha capito, comunque ha proseguito la strada, è andata a sbattere contro il camion, il camionista, che è un ragazzo giovanissimo, fra l'altro davvero sotto sciocche, che è andato via pochi minuti fa. La signora ha frenato, ha frenato per cercare di non prendere la signora e i blocchi di cemento che vedete lì per terra l'hanno travolta completamente. I signori, questi della casa qui accanto, hanno assistito, hanno sentito questo forte boato, ci hanno raccontato e poi sono usciti. Vi farei sentire la loro testimonianza, qui ovviamente a Cavrie di San Biagio c'è davvero sgomento, i residenti sono sotto shock anche perché, fra l'altro, Francesca, questa signora era molto conosciuta e camminava sempre lungo questa strada, faceva passeggiate, andava in bicicletta, tutti i giorni, dice mai accaduta una cosa del genere. Sentiamo la testimonianza di questi due residenti. Un grande botto. Poi è uscita? Sono uscita, sono venuta a vedere e ho visto tutte queste cose, questi blocchi, i blocchi, solo, della bicicletta, della persona, insomma. Non sapevo chi era, non sapevo niente. Convolgente? Conosceva? Beh, la conosco, sì, perché se è quella che dice, sta appena avanti qua. Lei veniva sempre di qua in bicicletta, ci dicono? Faceva sempre i soggetti in bicicletta, sempre. Mattina, sera, andava dai suoi figli a trovarli, sì, sì. Che i cammin passano spesso qui? Cammin, che ne passa di tutti i colori qua. Senta, ma abbiamo visto l'autista che è davvero sconvolto per quello che è accaduto. Perché veniva fuori da quella stradina e davanti c'era uno che lo seguia, che gli diceva fermate, gli ha detto a sta signora. A sto punto qua gli ha detto fermate. Ma signora, si vede che non ha pensato, è andata più avanti e l'ha aspettato sul parimorchio. È andata più avanti, aveva detto di fermarsi. E si è avvicinata la signora? Sì, era già morta. Non l'ho conosciuta chi era. No, no, no. Butta via che ha macchinato. Senta, ma lei l'ha controllata, tutte le lastre erano addosso alla signora di cemento? Eh beh sì, sì. Tutte e tre le lastre. Sì, era solo che ne ero da fuori, no? Aveva la testa schiacciata e un braccio, però non l'ho conosciuta chi era. Che fine che ha fatto. Era purtroppo quando lei si è avvicinata era già morta. Sì, 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 era già morta. Lo avete sentito e sono arrivati da qua poco tempo fa anche la figlia, i due figli, la signora aveva tre figli, sono arrivati qua per il riconoscimento. Ovviamente vi faccio immaginare insomma lo shock, la tragedia, la disperazione per questo incidente e le lastre sono rimaste là, sono arrivati anche i vigili del fuoco, le indagini sono della polizia locale. Tante le domande che si stanno ponendo tutti e soprattutto era se queste lastre dovessero essere ancorate in qualche maniera al camion oppure no. sta di fatto che la frenata li ha fatti scivolare a terra addosso alla signora. Dunque sarà la polizia locale ovviamente a stabilire adesso la dinamica esatta e a capire perché sia successa una tragedia così. Qualcuno dice una fatalità, un appuntamento davvero nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Purtroppo come tanti incidenti questa strada ci dicevano anche i residenti davvero una strada dove passano molti camion ed è una strada, non so se riuscite a vederla, ma davvero stretta e piena di curve. E questa è un'altra delle domande che si pongono i residenti perché passano di qua. Fra l'altro questo camion lo vedete è grosso, sopra c'è la gru e davanti proprio c'era una macchina che guidava il camion proprio per le difficoltà di percorrere questa strada. Francesca, da Cavie è tutto. Se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie, grazie Daniela Sezia, grazie Nicoletta Rizzetto per la cronaca di questa tragedia che ha veramente dell'incredibile. Andiamo a Venezia per la caduta di alcuni mattoni che ha reso necessaria la chiusura temporanea di Calle del Caffetiera a Sant'Angelo. La Calle, dove sostanzialmente ci sono solo affittanze turistiche, era stata definita devenezianizzata durante le manifestazioni per la tutela di Venezia. L'imbocco da Campo Sant'Angelo di Calle del Caffetiera è chiuso. A garanzia della pubblica incolumità, un'ordinanza della polizia locale di Venezia ne ha interdetto la circolazione pedonale fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'immobile da cui si sono staccati questi pezzi di mattoni che, frantumati dalla caduta dall'alto, giacciono ancora sui masegni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Calle del Caffetiera non è una calle qualsiasi, è una calle in cui, tranne una famiglia, ci sono solo residenze turistiche. Un emblema della piega che ha preso la città. Segnalata con un amaramente ironico striscione calle devenezianizzata, aveva quindi avuto un ruolo fortemente simbolico durante la manifestazione in cui, a 50 anni dalla legge speciale di Venezia, si chiedeva che in una città che, secondo alcune definizioni, perde pezzi, abitanti, enti e istituzioni, arrivassero e venissero spesi i fondi per la salvaguardia della città. Calle del Caffetiera è ora chiusa al transito per la tutela dell'incolumità pubblica. Secondo caso in Veneto di Via Libera alla pratica di suicidio medicalmente assistito. Il quarto in Italia dal 2019. Si tratta di una signora di 78 anni, Gloria, questo è il nome di fantasia. Questa è la sua storia. Sono emozionata e orgogliosa di essere Veneta. Le parole di Gloria affidate all'avvocato Filomena Gallo. Si sente libera di poter decidere affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora Veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Dopo aver ricevuto il Via Libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico, potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare. Il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipa multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato, emessa quattro anni fa dalla consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito. Quando il malato è un malato che ha una patologia reversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabile, è mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate, così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio. Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno addempiendo dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone, Gallo è in continuo contatto con Gloria. Emozionata, è contenta, è contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta. Un ragazzo di 22 anni, Francesco Prandini, è morto in un incidente accaduto ieri sera a Villa Bartolomea in provincia di Verone. Il giovane che viveva nel paese della bassa veronesa ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro un capitello. Il 22enne è morto per i gravi traumi riportati inutili. I tempestivi soccorsi dei sanitari del SUEM intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Castagnaro per i rilievi di legge. Blitz della Guardia di Finanza nella Corte dello Spaccio ad Arcugnano, siamo nel Vicentino, dove sono state perquisite tre palazzine, arrestati cinque spacciatori nigeriani e sequestrato stupefacente che era destinato alle piazze vicentine. Blitz antidroga della Guardia di Finanza ad Arcugnano, sgominato un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, arrestati cinque nigeriani tra i 23 e i 35 anni per spaccio e ricetazione, sequestrate 600 dosi di droga che sono state trovate occultate in mezzo ad abiti o all'interno di rotoli di carta igienica o riposti su ripiani accanto a materiale per il confezionamento. Una Corte con diversi immobili all'ingresso di Arcugnano e all'interno della quale c'erano diversi nuclei familiari di nigeriani, abbiamo trattato una situazione abbastanza degradata. Oltre ad aver rinvenuto più di 600 dosi di stupefacente, in particolare crack e cocaina, abbiamo rinvenuto 12 mila euro in contanti e anche dei pc, dei portatili, dei tablet e degli smartphone che noi riteniamo essere proventi di furto che erano stati ricettati, alcuni di questi peraltro sottratti ad alcune scuole, anche asili della provincia. Una situazione di degrado perché abbiamo trovato diversi nuclei familiari anche con dei bambini in condizioni igieniche e sanitarie pessime. Nelle prossime ore noi faremo partire una serie di segnalazioni anche d'intesa col signor prefetto che è stato informato di questa situazione. Gruppo criminale che agiva nelle piazze vicentine, dalla stazione a Campo Marzo e nelle strade limitrofe al centro storico. Abbiamo ricostruito tutti i passaggi, abbiamo individuato questo gruppo criminale nigeriano che operava secondo le nostre risultanze ad Arcugniamo e spesso si spostava in bici o piuttosto che in monopattino sulla piazza di Campo Marzo per lo spaccio. Operazione che ha visto l'impiego di 15 militari, il cane antidroga del gruppo Vicenza con il supporto di un elicottero della sezione di Venezia che hanno circondato l'area. Abbiamo operato con diverse unità a terra in borghese e in uniforme anche con unità cinofila e con il supporto di un'unità aerea della sezione aerea di Venezia che naturalmente assicurava una corcinice di sicurezza in tutto il perimetro. Villaggio Olimpico a Cortina, Cigiale, Cisle e Will lanciano una raccolta firme per fermare quel progetto e rilanciare il recupero dell'ex colonia Enia Borca di Cadore. Nessuno ha chiesto nulla rispetto agli interventi olimpici sul territorio, affermano i sindacati che hanno effettuato uno studio sulle infrastrutture rispetto alla necessità del territorio. Tre mesi fa la proposta del comune di Borca di Cadore sposata dall'amministrazione provinciale venne respinta al mittente, ma per un cambio di rotta sulla scelta del villaggio Olimpico non è mai troppo tardi perché nulla è scritto sulla pietra. Lo hanno affermato oggi i segretari di Cigiale, Cisle e Will, che hanno presentato un documento argomentato e lanciato una raccolta firme a sostegno del recupero dell'ex villaggio Enia Borca di Cadore. Noi chiederemo alla popolazione di esprimersi rispetto a quello che succede nel suo territorio. Per quanto riguarda la partita olimpica, nessuno ha chiesto nulla alla popolazione di Belluno. No al consumo ulteriore di suolo e no allo spreco di denaro. 39 milioni di euro è previsto, costerà il villaggio olimpico a fiamme se quell'investimento per una struttura prefabbricata usa e getta pare un affronto rispetto alle necessità del territorio. Lo studio che abbiamo fatto con approfondimenti tecnici ci dice che c'è un'area di maggiore emergenza rispetto a quella di Fiammes che comunque è un'area di emergenza a rischio idrogeologico P2 che è quella di Borca. Quello che noi chiediamo è che le risorse pubbliche vengano destinate per gestire l'emergenza che è già adesso in essere. La richiesta dei sindacati di destinare quelle risorse per la messa in sicurezza della cittadinanza di Borca oggi è contestualmente a recuperare il villaggio che è un patrimonio del territorio. Questo villaggio potrebbe appunto dare sostegno per i medici e gli alloggi dei medici, alloggi dei cittadini, degli studenti prevedere anche a livello turistico alcuni insediamenti quindi secondo noi è un'idea che va proposta alla popolazione alla regione, al comitato olimpico. Comitato che già di suo ha disposto che l'evento risponda a coordinate di sicurezza, sostenibilità e di eredità per il territorio. La raccolta firme partirà in questi giorni a Borca di Cadore si estenderà in tutta la provincia e si concluderà entro il mese di luglio per essere inviata alla regione e al comitato organizzatore. L'auspicio di CGL, CISL e UIL è che anche la politica locale batta un colpo. Ci ha lasciato in disparte su queste scelte quindi il nostro obiettivo è rilanciare. Noi speriamo che la politica possa essere con noi o almeno di intraprendere un confronto. A distanza di 80 anni esatti le è stata consegnata una cartolina che il padre, Domenico Silvestri, a quel tempo internato in un campo di lavoro in Germania spedì nel 1943 alla moglie Teresa Zaltron. Ora quella cartolina è nelle mani della figlia della coppia Maddalena nata nel 1941 e tuttora residente a Marano Vicentino. Quando Domenico, che si era sposato con Maddalena nel 1937 e lavorava come manovale in una fonderia partì per le armi nel 1943, la figlioletta aveva solo due anni e ha potuto riabbracciarla solamente nel 1945 una volta rientrato in patria a guerra finita. La cartolina è stata ritrovata da Enrico Dolgan grande appassionato di storia che l'ha acquistata da un collezionista di cimeli e oggetti d'epoca e una volta letto il destinatario si è messo alla ricerca fino a trovare la figlia di Silvestri. L'atto formale della consegna è avvenuto in municipio l'avete visto le immagini a Marano Vicentino alla presenza tra gli altri del sindaco Marco Guzzonato e con questa bella notizia termina questa edizione del nostro telegiornale vi lascio le previsioni del tempo grazie per essere tutti con noi e buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano Ben trovati al meteo alta pressione ancora lontana dall'Italia andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile il dettaglio di sabato 10 giugno sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso generalmente assenti sulla costa o al più locali piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno temperature stazionarie minime tra 15 e 19 gradi massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi temperature minime tra 16 e 18 gradi massime sui 24 e 26 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera temperature minime intorno ai 19 gradi massime sui 28-29 gradi all'incirca dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci ad accogliervi sarà Conegliano grazie per la visione